segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e il sanfornero visto che questa storia l'ha tanto colpita io ho il piacere di presentarle e di presentare al nostro pubblico per la prima volta in televisione francesca sebastiani collegata con noi da napoli francesca buongiorno grazie per aver accettato il nostro invito hai avuto il coraggio di denunciare questa paga da fame 280 euro per un impiego a tempo pieno come commessa in un negozio dopo la sua denuncia che tanto clamore ha suscitato nei social qualcosa è cambiato ha trovato finalmente un lavoro con con uno stipendio decente a me attualmente mi hanno proposto dei lavori solamente che non sono per il momento fattibili nel senso che sono notturni mi hanno proposto un lavoro notturno solamente che essendo che non ho la possibilità di andare mi è difficile appunto andarci per il momento ne uno solo il lavoro che tipo di lavoro sta facendo io attualmente faccio il rider quindi fa le cose le consegne del cibo e quanto guadagna sì sono tre più o meno tre euro a consegna che poi dipende dalla lontananza se più lontano magari sono 350 3 90 se più vicino sono tre rispetto ai 280 euro al mese che le era stato offerto in quel negozio oggi quanto riesce a portare a casa alla fine del mese alla fine del mese io posso portare 50 euro a settimana però sono le ore sono molto molto di meno ok ma con 50 euro a settimana si vive a napoli lei vive a scampia forse il costo della vita non è tanto alto ma immagino gli sacrifici sì allora io abito a secondigliano essendo che vivo con la mia famiglia tra virgolette non ho spese però per me personalmente è difficile perché io se lo voglio fare è anche per crearmi un futuro mio personale certo questo è una cosa... o